Un cordiale saluto a tutti e ben ritrovati a Laus, l'appuntamento settimanale con informazione dalla Diocesi di Lodi. E apriamo con il ricordo del Cardinale Carlo Maria Martini che si è tenuto al Collegio Vescovile di Lodi in occasione della presentazione del libro del teologo Marco Vergottini, Martini e noi. Fare memoria poco più di tre anni dalla sua scomparsa del Cardinale Carlo Maria Martini, ancora molto vivo, presente, il cui ricordo scalda i cuori pensanti. Sono le parole del teologo Marco Vergottini a Lodi per presentare il suo libro Martini e noi, una raccolta di oltre 100 testimonianze di persone che l'hanno conosciuto personalmente. Martini è arrivato a Milano portando il Vangelo in mano e incontrando la gente. Anzi, è partito dalle carceri, dalle carceri di San Vittore e poi ha spiegato la parola alla gente, alla gente colta, alla gente più semplice, agli adulti, ai giovani. È riuscito col Vangelo in mano a lasciare un segno in 22 anni di Ministero Episcopale. Come sono state scelte le testimonianze? Alcune sono state obbligate perché erano persone che hanno vissuto con lui la responsabilità della Chiesa milanese. Altri sono amici che io conoscevo, la gente dei segretari mi hanno segnalato diverse persone e poi diversi intellettuali, uomini di cultura, donne di cultura. E poi alla fine, all'improvviso, quando meno te l'aspetti, è arrivato anche Papa Bergoglio. È arrivato come al solito inaspettato. Il testo era già in prima edizione. Quando sono stato chiamato dalla Segreteria di Stato, è pronto il testo di Bergoglio. E allora abbiamo dovuto bruciare le prime 5.000 copie per uscire in seconda edizione con il ricordo personale di Papa Bergoglio. Qual è il suo ricordo personale? Il ricordo personale è il mio rapporto con lui dovuto al fatto che io sono diventato segretario del Consiglio Pastorale Diocesano e ho potuto vivere con lui fianco a fianco questa esperienza di sinodalità della Chiesa e tra l'altro anche con la gioia di poter cenare, pranzare con lui. Martini si rilassava, io gli facevo domande sulla Gregoriana, sui suoi studi biblici, ma parlavamo anche di letteratura e era un rapporto molto cordiale. Ogni tanto lui aveva bisogno anche di fiatare un po' per i tanti impegni che aveva durante la sua vita episcopale. Imponente nella signorilità e delicatezza. Così il Vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti, ha ricordato il suo primo incontro con il Cardinale Carlo Maria Martini. Io l'ho incontrato da giovane prete al seminario di Bergamo, nella visita di Giovanni Paolo II e poi in altre circostanze, ma l'ho potuto avvicinare in maniera più proficua a Roma perché fu sempre membro della Congregazione per le Chiese Orientali. L'ho incontrato infine a Gerusalemme, nella stagione più silenziosa, quando egli voleva dirsi intercessore in questa terra che conosceva tanti conflitti, ma che è la prima terra chiamata a testimoniare e ad offrire la pace che viene da Dio. E sono anche lieto che l'incontro avvenga ad un giorno soltanto dal cinquantesimo anniversario della pubblicazione del documento conciliare Dei Verbum, un documento importante e solenne dedicato alla rivelazione divina, alla parola di Dio che fu la grande guida di questo pastore e che egli seppe avvicinare ai credenti e anche ai non credenti come segno dell'appello di Dio verso l'incontro con lui nell'amore. A condividere con i presenti i propri ricordi del Cardinale Carlo Maria Martini il Vescovo Emerito di Lodi, Monsignor Giuseppe Merisi, che per molti anni ne fu Vescovo ausiliare per l'Arcidiocesi di Milano. Quando lui è arrivato a Milano alla fine 79, inizio 80, io l'ho appena diventato assistente diocesano dell'Azione Cattolica. Con lui ho fatto diversi anni Azione Cattolica, molti anni prima come cancelliere in Curie e poi provicario generale, poi Vesco ausiliare e vicario episcopale della zona di Lecco. e quindi tutta la mia vita legata al servizio in diocesi è legata alla presenza, al carisma e alla indicazione pastorale del Cardinale Martini che ricordo volentieri anche perché anche a casa mia, mia mamma, mio papà, i miei familiari avevo un bel rapporto anche perché veniva tutti gli anni al Madonna delle Lacrime, a Treviglio, di cui sono originario, quindi una bella presenza, una bella collaborazione da parte mia, una grande attenzione per il suo magistero significativo e importante per la nostra vita personale, oltre che per il cammino della diocesi. Qual è l'eredità che ci ha lasciato? E soprattutto un'eredità legata alla sua testimonianza personale, la sua capacità di raccordare intelligenza, ricerca, silenzio, preghiera e capacità al tempo stesso di condurre un cammino di una diocesi, di una comunità con questa grande capacità di riferimento, con un carisma che la gente coglieva e che seguiva volentieri, una autorevolezza che diventava autorità vera, capace di indicare delle prospettive e di contribuire alla sua realizzazione di queste prospettive. In particolare ricordo sempre le prime lettere pastorali, l'Eucaristia al centro, anche legata al Congresso Eucaristico nazionale, in funzione, in preparazione dell'Eucaristia, su quello che riguarda la dimensione contemplativa della vita, il primato della parola e le conseguenze dell'Eucaristia, quindi l'evangelizzazione e la carità. Con quel grande impegno, con quel grande convegno diocesano, farsi prossimo, del 1985-1986, che poi ha portato con sé l'impegno per la Caritas, la Fondazione di Justizia e Pax a livello diocesana e le scuole di formazione all'impegno sociale e politico. Impegni nati in un contesto, oggi diremmo di sinodalità, che l'arcivesco però proponeva, che sosteneva e che conduceva, la maestria che tutti riconoscevano. Obiettivo famiglia, sfide e prospettive dopo il sinodo. Se ne è parlato a Lodi in occasione dei lunedì del MEIC con Giannino Piana, scrittore e teologo moralista. Cosa è stato il sinodo? Come si è sviluppato? Leggere la relazione finale tenendo presente che l'ottica sotto la quale i problemi sono stati affrontati spazia sulla totalità del mondo, tenendo conto delle differenze delle culture e dei contesti. Questa è la premessa di Giannino Piana, scrittore e teologo moralista, ospite a Lodi del MEIC, per parlare di sfide e prospettive dopo il sinodo sulla famiglia. E proprio della famiglia fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna si è occupato il sinodo, ha precisato Piana, sviluppando tre linee di riflessione. Analisi della situazione attuale della famiglia in occidente, cosa dovrebbe essere la famiglia cristiana per poi mettere l'accento sulle irregolarità familiari. Le prospettive più significative sono quelle che riguardano i temi etici, in particolare la pastorale dei divorziati e risposati, dove il sinodo ha espresso una posizione aperta, insomma, e poi le tematiche legate alla questione dell'omosessualità e quelle anche legate al problema della contraccezione. Credo che questi siano i temi su cui maggiormente mi fermerei per dire da una parte che il sinodo su alcuni perlomeno ha aperto, soprattutto nelle prospettive di fondo, però su altri invece ancora c'è un cammino da fare. Su quali ha principalmente aperto? Devo dire che quello su cui c'è una maggiore apertura è soprattutto quello della pastorale dei divorziati, dove appunto senza arrivare esplicitamente a dire il sì alla possibilità dell'accostamento alla penitenza e alla comunione, si lascia però intravedere che questa possibilità finalmente è introdotta, anche perché si fa riferimento non tanto al diritto canonico quanto alla pastorale e alla coscienza di ciascuno e quindi alla possibilità di verificare attraverso un discernimento personale le varie situazioni e in base a questo anche pervenire in alcuni casi alla possibilità di accesso ai sacramenti. Si è molto discusso, durante il sinodo ci sono stati anche eventi che hanno cercato di disturbare, di distogliere l'attenzione. Sì, senz'altro si è molto discusso, all'interno c'è stata anche, credo, una certa divisione, insomma, tra una maggioranza che è una maggioranza altamente qualificata, così come è uscita anche nelle proposizioni che avevano gli argomenti più delicati, insomma, ecco. E però una minoranza anche consistente che aveva posizioni più rigide, insomma, ecco. E poi ci sono stati questi elementi di disturbo esterni, c'è effettivamente anche all'interno del Vaticano, poi lo si è visto anche in questi ultimi giorni, la tendenza, ecco, a mettere in qualche modo in discussione, ecco, l'operato di questo Papa, sia per il fatto che ha veramente introdotto il discorso della Chiesa dei Poveri in modo forte, attraverso anzitutto il suo stile di vita, sia perché poi è stato coraggioso nell'affrontare certi problemi, anche che erano da tempo, come dire, nel cassetto, insomma, e che sono stati tirati fuori e che sono problemi come quelli che già ricordavo, che hanno un peso notevole anche dal punto di vista pastorale. Hanno preso il via i laboratori per la formazione degli evangelizzatori degli adulti. Ne abbiamo parlato con Monsignor Bassano Padovani, direttore dell'Ufficio Diocesano Catechistico. Cinque appuntamenti legati dall'unica grande tematica della misericordia, ovviamente con cinque affondi di prospettiva diversa. Inizierà Don Roberto Vignolo, che dal punto di vista biblico ci aiuterà a cogliere questa grande realtà della misericordia, che è il nome di Dio, la sua realtà specifica. Proseguirà Don Cesare Pagazzi, che attraverso l'accostamento del tema, dal punto di vista teologico, filosofico, culturale, ci permetterà di capire che il cuore della misericordia è in un qualche modo occupato da quell'atteggiamento, sentimento della compassione, ma che culturalmente lascia aperti alcuni interrogativi, perché per molti la compassione è il lato debole della persona, magari non invece quello vincente. Il terzo appuntamento lo vivremo con il nostro Vescovo, al quale abbiamo chiesto di aiutarci a guardare dentro questa prospettiva di misericordia un ministero, potremmo dire così, di consolazione particolare della Chiesa, l'attenzione a tutte quelle situazioni che in un qualche modo sono delle ferite nell'esperienza della vita credente, la vita di tutti i giorni, e dentro quindi questa prospettiva cogliere l'appello di una presenza viva della Chiesa in funzione proprio dell'aiuto alle persone in difficoltà. Il quarto appuntamento sarà coordinato dal direttore dell'ufficio regionale della Catechesi per l'Emilia Romagna, Don Valentino Bulgarelli, è un biblista e anche un catecheta, e ci aiuterà a riprendere il tema della misericordia dal punto di vista dello stile dell'evangelizzatore, facendoci entrare nella prospettiva tracciata dalla parabola del buon samaritano per riconoscere gli atteggiamenti e i comportamenti migliori con cui vivere appunto questo servizio di evangelizzazione. E l'ultimo appuntamento sarà presentato da un teologo di Vienna che ha vissuto per qualche tempo nella nostra diocesi mentre stava completando un suo percorso formativo presso la facoltà, e si chiama Kurt Appel. Lui ci aiuterà a tentare di attualizzare le opere di misericordia spirituali e corporali che sono una grande tradizione all'interno della Chiesa, ma che evidentemente hanno bisogno di essere ripensate nell'oggi. A chi sono rivolti questi laboratori? Diciamo che in prima battuta noi li offriamo come pista formativa per tutti coloro che operano in maniera attiva nel campo dell'evangelizzazione, quindi catechisti degli adulti, accompagnatori dei genitori lungo il percorso di iniziazione cristiana, potremmo dire gli animatori dei centri d'ascolto, i catechisti battesimali, coloro che accompagnano il percorso del catecumenato degli adulti, però in realtà sono aperti a tutti quegli adulti che possono sentire utile un percorso di approfondimento teologico proprio su questo tema. Le missionari del Sacro Cuore di Gesù nella festa di Santa Francesca Cabrini hanno celebrato a Codogno il novantesimo anniversario di consacrazione della Chiesa del Tabor. Siamo andati a trovarle. Venne consacrata 90 anni fa la Chiesa del Tabor, tanto desiderata da Santa Francesca Cabrini, punto di riferimento per le missionarie del Sacro Cuore di Gesù per le loro funzioni nazionali e internazionali, e spesso richiesta da gruppi, associazioni e parrochie per diverse iniziative religiose. Chiesa che custodisce su uno degli altari laterali il cuore di Santa Francesca Cabrini, reliquia portata a Codogno nel 1942 dopo la beatificazione, venerata anche da San Giovanni Paolo II nella sua visita a Lodi. Maria Cabrini è stata una donna molto attiva, lo sappiamo tutti, una grande missionaria, però sapeva sognare, ecco. E la realizzazione della Chiesa del Tabor è uno dei suoi grandi sogni. Lei voleva che l'Istituto avesse questo centro di preghiera, perché diceva che appunto la preghiera delle suore qui davanti all'Eucaristia era praticamente la forza dove le missionarie del Sacro Cuore sparse in tutte le parti del mondo, dove loro ricevevano la forza da questa preghiera. e sappiamo che le missionarie sono partite da qui, da Codogno. Made Cabrini partì, fondò l'Istituto qui a Codogno e partì da qui con il primo gruppo di missionarie. Made Cabrini tentò, è la stessa, durante la sua vita, di realizzare questa chiesa, di costruire questa chiesa, ma non ci riuscì. Dopo la sua morte, la superiore generale che le succedette, madre Antonietta della casa, si propose di realizzare questo sogno. Hanno collaborato tutte le suore in tutte le parti del mondo, tutte le missioni cabriniane in tutte le parti del mondo, hanno collaborato economicamente per accogliere i fondi, per la costruzione di questa chiesa. Non è stato facile, non è stato facile per tanti motivi, comprensibili anche, però dopo circa sei anni, sei, sette anni dalla morte di madre Cabrini, già la chiesa era pronta, dopo tante peripezie, per arrivare a finire la costruzione. fu inaugurata il 14 novembre del 1925 alla presenza della madre generale, madre Antonietta della casa, di tantissime suore dell'Italia specialmente, e ha preseduto, ha consacrato la chiesa, il cardinal Maffi di Pisa, che era conterraneo della madre Cabrini. Da allora la chiesa del Tabor divenne un punto di riferimento, diciamo, della vita spirituale, degli avvenimenti spirituali delle missionarie del Sacro Cuore. Sono state celebrate qui tutti gli avvenimenti particolari dell'Istituto, la beatificazione, la canonizzazione, e tanti, tanti eventi, fino al grandioso evento che è dell'arrivo del cuore, della reliquia del cuore di madre Cabrini. Oggi cosa rappresenta per Codogno, questa chiesa, per la comunità di Codogno? Tante, tante attività per la diocesi, inserite nella diocesi, e anche per la parrocchia di Codogno. L'Istituto, con la chiesa del Tabor, è un po' un centro di attrazione per la parrocchia. Un gruppo di persone ogni giorno frequentano, partecipano all'adorazione perpetua che noi abbiamo qui. E' un punto focale, diciamo, per gli incontri spirituali e apostolici per la parrocchia. E rimaniamo a Codogno per la 225esima edizione della Fiera Autunnale. E la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre amore. Buona fiera! Taglio del nastro alla Fiera di Codogno è giunta alla sua 225esima edizione, inaugurata questa mattina alla presenza delle autorità civili e religiose del nostro territorio. Consegnate nel corso della cerimonia le borse di studio offerte dal Rotary Club, dall'Inner Will di Codogno e dalla Confartigianato. 267 quest'anno gli espositori, 48 gli stand nel padiglione agroalimentare delle istituzioni e delle imprese del territorio, 13 nel padiglione Bovini e 33 in quello commerciale. Nell'area scoperta 93 gli spazi di imprese operanti nella realizzazione e vendita di macchine agricole, attrezzature zootecniche e prodotti per l'agricoltura. L'auspicio è che possa rappresentare un evento in grado di dare un segnale in controtendenza rispetto alle difficoltà del settore agricolo e agroalimentare. Difficoltà che caratterizzano un po' l'economia del nostro paese e che toccano anche da questo punto di vista la produzione agricola, agroalimentare e la produzione del latte. L'evento fieristico è un evento importante, ha avuto una risposta significativa dal punto di vista degli espositori, degli allevatori, speriamo anche degli operatori del settore e in questa direzione possa, come dicevo prima, rappresentare davvero un richiamo alla possibilità di reagire positivamente per il comparto auspicando che si possa nel tempo velocemente uscire dalla crisi. Un'edizione che si è aperta all'insegna della solidarietà e della vicinanza agli allevatori in un momento economico difficile con un buco da oltre 2 milioni di euro da settembre a oggi nei bilanci degli allevamenti lodigiani per il cloro del prezzo del latte da stalla secondo la stima della Coldiretti di Milano Lodi Monza Brianza che denuncia che in poco più di un anno i compensi riconosciuti dall'industria agli allevatori in Lombardia sono crollati di oltre il 20% con più di due allevamenti al mese chiusi tra il 2014 e il 2015 28 in un anno. Siamo conciati malissimo siamo venuti lo stesso un po' per i nostri ragazzi un po' perché questa è la fiera è un po' la nostra la festa di noi allevatori la fiera di Codogno abbiamo deciso di venire lo stesso però siamo veramente alla canna del gas Spiragli Spiragli speriamo che succeda qualcosa con le manifestazioni che abbiamo fatto speriamo che servano per far cambiare un po' il prezzo del latte e soprattutto noi non chiediamo niente di particolare chiediamo solo che ci venga retribuito un giusto prezzo per il latte che facciamo latte fatto in Italia per prodotti che vanno per origine controllata per le DOP Entro la fine di quest'anno dovrebbero partire i lavori di realizzazione dell'impianto di stoccaggio gas nelle campagne di Corneliano Laudinse un impianto che ha già ottenuto tutti i via libera per essere realizzato in questi giorni il gruppo consigliare Lodi Comune Solidale ha avviato una campagna di sensibilizzazione e conoscenza tra i cittadini in particolare quelli del quartiere di San Fereolo Giacomo Biancardi ha chiesto al capogruppo in consiglio comunale Giorgio D'Acò il perché di questa iniziativa e quali le finalità fra pochi giorni entro la fine dell'anno entro il 31 dicembre inizieranno a aprontare il famoso impianto di stoccaggio gas metano di Corneliano Laudense che però interesserà non soltanto quel comune ma anche altri comuni limitrofi tra cui il comune di Lodi e in particolare il sottosuolo della zona del quartiere San Fereolo noi ci siamo ci siamo mossi per informare le persone per informare la gente di Lodi perché anche parlando con i nostri conoscenti con le persone della città ci siamo accorti che a parte gli addetti ai lavori quasi nessuno era al corrente di questa prossima iniziativa Cosa prevede questo piano? Prevede la realizzazione di un impianto di stoccaggio gas metano che sarà il più grande o comunque uno dei più grandi d'Italia con lo stoccaggio appunto di circa due miliardi di metri cubi di gas metano che verrà riempito e svuotato più volte all'anno il consiglio comunale di Lodi si è pronunciato già a settembre all'unanimità contro contro questo impianto e lo stesso comune di Lodi l'amministrazione del comune di Lodi in tutte le occasioni ha sempre dato il proprio diniego alla realizzazione di questo impianto impianto che però ha tutte le autorizzazioni dalla provincia dall'allora giunta Foroni da tutti gli altri enti e dal governo per essere realizzato Quali sono le perplessità? Le nostre perplessità appunto riguardano innanzitutto l'informazione dei cittadini appunto perché è importante che tutta la popolazione sia quantomeno a conoscenza di questo progetto Noi chiediamo che tutto sia nel caso questo progetto si realizzasse e non si riuscisse a fermarlo entro la fine dell'anno chiediamo che la popolazione sia informata e sappiamo che già la giunta di Lodi si sta muovendo proprio per organizzare delle campagne di informazione quantomeno un incontro tra la società che realizzerà l'opera e i rappresentanti del comitato per l'ambiente per la salute dell'Odigiano che stanno operando già da anni nel territorio per per contrastare per cercare di contrastare questo questo progetto quindi chiediamo un'informazione anche perché questo impianto sarà un impianto soggetto alla cosiddetta normativa Seveso quindi a cui sono soggetti gli impianti con una certa pericolosità per la popolazione e quindi chiediamo che tutto sia realizzato a norma se sarà realizzato e che tutta la popolazione sia informata Giunge così al termine questa puntata di Laus che vi dà appuntamento per la prossima settimana Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti.